8 anni fa per cercare di far nascere in grosseto quelle strutture, quegli strumenti che permettessero localmente di poter portare avanti la prevenzione e la cura dei tumori. Questa è stata la nostra missione e abbiamo cercato di portare avanti in tutti i modi, cercando di supportare l'ASL in quelle esigenze che nell'immediatezza e negli anni successivi non avrebbe potuto realizzare per mille modi.